Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale Mario Dedo, oggi siamo su Minecraft e vi farò vedere come trovare i tesori nascosti Innanzitutto questi tesori sono dei bauli situati o sotto la sabbia o sotto la ghiaia in determinati punti della mappa Per trovarli naturalmente c'è bisogno di una mappa del tesoro Io ne ho due già in mio possesso, trovate negli episodi precedenti, ma adesso vi farò vedere anche come trovare una mappa del tesoro Basta cercare una nave abbandonata Andiamo adesso alla ricerca Eccoci qui ragazzi abbiamo trovato la nave abbandonata, adesso dobbiamo cercare i bauli al suo interno e le mappe del tesoro Allora il baule eccolo qua il primo, lo apriamo e come vedete abbiamo trovato una mappa del tesoro Adesso vi farò vedere come anche osservarla, ritorniamo un attimo in superficie Come si vede la mappa? La mappa del tesoro è sempre in direzione nord In questo caso noi siamo quel piccolo puntino in basso a destra Quindi noi ci troveremo rispetto alla X, quindi al tesoro, in una posizione sud-est Quindi dobbiamo spostarci ad ovest e leggermente a nord Come facciamo a capire la nostra direzione? Tramite il comando delle coordinate Nel mio caso utilizzando il pc il comando delle coordinate è F3 Tra le varie informazioni vedremo anche la direzione nostra che in questo momento è verso nord Quindi muovendoci in questa posizione noi ci muoviamo verso nord Visto che dobbiamo spostarci ad ovest Ci sposteremo leggermente ad ovest Andremo in direzione nord-ovest in questo modo Adesso tolgo il comando F3 visto che abbiamo capito la posizione Seguiremo questa direzione fino a quando non rientriamo nella mappa Infatti più ci avviciniamo al tesoro più il nostro puntino diventerà grande Fino addirittura a diventare una forma simile ad una nave Come vedete già il puntino è un po' più grande Tra poco riusciremo ad entrare anche nella mappa Vedete ragazzi adesso che ci stiamo avvicinando al tesoro Si inizierà a formare anche la mappa Ci dobbiamo in questo momento muovere semplicemente verso nord Quindi andiamo a vedere le nostre coordinate Si dobbiamo muoverci in questa direzione verso nord Tra poco vi farò vedere che il puntino si trasformerà in una barchetta Probabilmente è proprio qui il punto del nostro tesoro Ci siamo quasi Eccoci qui ragazzi guardate Adesso non ci resta che posizionarci sulla X e iniziare a scavare Quindi orientativamente il tesoro si troverà qui Allora ci posizioniamo sulla X Prendiamo adesso la pala e iniziamo a scavare Come dicevi il tesoro è possibile trovarlo o sotto la sabbia o sotto la ghiaia Eccoci qui ragazzi abbiamo trovato il tesoro Ecco tutto ciò che c'era all'interno Andiamo a prendere tutto Quindi come vedete tanta roba ragazzi Ok ragazzi giusto per farvi rivedere il meccanismo Abbiamo quest'altra mappa del tesoro Come vedete in questo caso siamo già più vicini In quanto già si sta formando la mappa Il nostro punto è già abbastanza grande Tra poco si trasformerà in una piccola barchetta Allora abbiamo il nostro tesoro Che rispetto a noi naturalmente è in posizioni nord-est Noi invece ci troviamo essendo in basso a sinistra A sud-ovest Quindi dobbiamo andare in direzioni nord-est Andiamo a vedere sempre le coordinate La direzione giusta dovrebbe essere questa qua Prendiamo la barchetta e andiamo Riprendiamo di nuovo la mappa E come vedete si inizia già a formare Siamo già entrati la nostra barchetta E il tesoro è proprio qui vicino a noi Lo facciamo in notturno questa volta Probabilmente il tesoro e questa volta è sott'acqua Quindi non lo troveremo in superficie Ma ci tocca scavare sotto Allora mettiamoci sempre Sulla nostra X E adesso andiamo a provare a scavare Eccolo qui ragazzi Il nostro tesoro andiamo ad aprirlo naturalmente E ci prendiamo tutto Addirittura tre diamanti ragazzi Ok ragazzi Io vi saluto per questo episodio E ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi E ci vediamo al prossimo Allora Ciao Ciao Ciao